Parliamo un attimo di questo periodo e soprattutto dell'impegno che le associazioni, i cittadini che abitano nella nostra periferia, a margine del fiume, vogliono mettere in campo. Voi chiedete che ci sia la pulizia del fiume prima che possano esserci degli eventi particolari durante l'inverno. Sì, anche perché io mi ricordo benissimo. Io sono un giovane che abita nella zona di Vescovatello, quindi ho impressa ancora nella mente l'alluvione che c'è stata nel 1996. Io ero a scuola proprio all'Alcmeone e ricordo benissimo, è un ricordo indelebile, quello delle persone che praticamente erano sulle macchine con un fiume che passava in una velocità pazzesca. Sono immagini che sono nella mia testa. Però ricordo anche delle immagini di quello che abbiamo fatto due anni fa, perché fino a poco tempo fa c'è stata un'altra piccola alluvione che magari per alcune è stata piccola, ma per altri è stata una grande alluvione perché io mi ricordo che quei giorni sono stato in macchina con altri miei amici, sempre dall'associazione. Abbiamo aiutato tantissime persone, quindi ricordo delle persone che avevano perso qualsiasi cosa, persone col fango anche un metro in casa. Sinceramente noi non vogliamo di nuovo arrivare a questa situazione perché sarebbe una follia, no? Sarebbe una follia arrivare di nuovo impreparati ad una cosa del genere. Quindi sicuramente il fiume non è più quello di una volta, perché io ricordo quando ero piccolo che c'erano proprio alberi, c'era terra, c'era spiaggia, c'erano gli uccelli, io ci giocavo lì, facevo anche il bagno, quindi parliamo di tanti anni fa. Però adesso parliamo di comunque un fiume con degli argini di cemento, dove quando scende praticamente tutta la melma dagli affluenti, si ristagna, io lo vedo, io ho anche la scuola mia lì, praticamente a un passo dal fiume, e vedo tutta la melma che praticamente si ristagna in dei punti. Quindi quella melma, che sarebbe fango, fanghiglia, pietre, quella potrebbe ostruire praticamente tantissimo. Io non sono comunque un esperto, ma in questo caso penso non ci sia bisogno di tantissima esperienza al riguardo. Perché qualsiasi cosa che crea un volume è come se noi prendiamo una bottiglia, la riempiamo di palline e poi ci mettiamo dell'acqua. Un conto è un volume di una bottiglia vuoto, un conto è un volume di una bottiglia con delle cose dentro. Sicuramente le canne fanno poco volume, ma sono tantissime, quindi avendo tantissime canne ci sarà anche tantissimo volume. Sicuramente, come ho saputo, non c'è stata un'ispezione nel fiume, quindi io non ho visto persone che hanno fatto avanti e indietro, partendo da dove scendono gli affluenti fino alla fine della foce. Anche perché si può passare, si può camminare, noi ci alleniamo lì, sarebbe giusto e doveroso magari almeno fare un'ispezione, perché nessuno vorrebbe che succedesse qualcosa di reparabile.